Regole, estrazione dei prodotti KMS California, 0348, 0348, 0348, si faccia avanti, c'è, prego qualcuno, una presenza femminile, abbiamo un uomo, è per una donna, ok va bene, ok, 0348, Kira, benissimo, è in arrivo, allora Kira, piacere intanto, allora qui avrai una borsa per l'estate e dentro troverai, ci sono tre prodotti, un olio sigillante per le doppie punte, c'è un trattamento maschera Teinfritz per capelli crespi e un conditioner per i capelli colorati, quindi sono tre prodotti in valore 100 euro, prego.